Ciao amici miei, è un po' che non mi faccio sentire, ma io ieri ho pubblicato un esempio di cover, ma avete massacrato, perché la combo che ho utilizzato faceva schifo col gatto. Qua c'è l'imbarazzo della scelta, cioè era semplicemente un esempio, ci si può mettere un cuore, ci si può mettere una foglia di Maria Arancione, ci si può mettere un cazzus, ci si può mettere una lettera, ci si può mettere quello che volete. Infatti qualche richiesta ce l'ho avuta, adesso sto facendo un cuore di questi, l'ho fatto oggi, che lo devo fare tricolore con la bandiera italiana, perché mi è stata fatta questa richiesta. Io capisco, ovviamente le critiche le accetto, ma era un esempio, di roba ce ne ho tanta, e ora sto a favorire le zampine da gatto, queste qui, ci si può mettere anche una zampina da gatto, era semplicemente un esempio. Dicevo, effettivamente la combo che ho utilizzato ieri non era delle migliori, però c'è raga, dio santo, io vi ringrazio perché le critiche costruttive le accetto, però non ci vuole tanto a capire che sono semplicemente degli esempi. Potete richiedermi quello che volete, ovviamente se ho lo stampo, ma infatti qua ce l'ho già fatta e ce ne stanno tantissime, e la cioccolata, e non lo so, la cacchina, ce ne stanno tante, e se non ce le ho qui, le posso fare. Io sta coroncina l'adoro, non so perché mi è stata bocciata, ma io l'adoro, ce l'ho in mille salse, l'ho fatta, adesso ho ripreso lo stampo perché mi si è rovinato. Però, raga, ce n'è per tutti i gusti, ecco. E ovviamente, cioè io non è che ci incollo le creazioni e le lascio così, anche lo sfondo va fatto, o inglobandoci, magari che ne so, sta carta metallizzata, che ce l'ho di diversi colori, oppure semplicemente facendoci, scusate, uno strato di resina del colore che si preferisce. Tutto qua, sto sistemando tutte le creazioni perché poi devo aprire anche lo shop, quindi, dato che mi serve altro materiale, intanto inizio a vendere quello che ho, perché di roba ce n'ho veramente tanta. Tutto qua, raga, io comunque, ripeto, vi ringrazio per le critiche costruttive, perché sono ben accette, però... Stadio molto tranquilli, ecco, vi voglio bene.